Gia, 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 Gia! È il cariffo! Ti sei fatto a pregare sul cariffo? Sì, te lo porto bene, perché mi sono commosso. Gia, Gia, Gia! Ma non va bene questa? È nudo perché non sei capito di vincere. Comunque la posso, Leala. Ma poi non devi parlare io, io, io... Si, è vero che non devi fare delle cose! Ma scusa, ma tutta non sono questi merda! Dai, pronti! Oh, Gabriele, te la mente! Giù su Ferreri! Però non ci sono poi dire... Tu picchi e ciao! No, ma si sta gioando! Lui dice, siamo alla serie! Siamo sui quattro a tre! No, siamo sui quattro a tre! No, scusa, ma siamo sul tre a tre! Dai, l'ultima, Cristina, prego! L'ultima, prima! Rinunciamo, è successo! Io vi provo… Io provo… Barba rossa. Chiana… Ah, si vede, per una vocina. Ma l'ultima è facile, per cui dice questa, dice questa. Ma io non dico io, io, eh. No, se no sei sporchi di canto. Già i mani? No. Sì, però è un bar, perché non è che tu puoi sonarci 50 volte. Allora, Lazio!